Grazie Il tema l'ho deciso di affrontare di particolare complessità anche terminologica sapete che Heidegger amava anche una certa aura nella presentazione dei suoi scritti e io cercherò di evitare per quanto possibile la seduzione e la fascinazione terminologica che invece ha profondamente influenzato anche una certa vulgata heideggeriana e certe interpretazioni, soprattutto certe traduzioni di Heidegger che esistono fino alla parodia su un tentativo di rendere i neologismi o le stranezze della lingua tedesca di Heidegger e tuttavia il tema è tale che occorrerà una certa attenzione per riuscire a seguire Partirò da Heidegger, poi cercherò di usarlo anche per alcune considerazioni che fuoriescono dall'ambito specifico della sua interpretazione ma non c'è dubbio che il nesso filosofia e poesia svolgono in Heidegger soprattutto nel secondo cosiddetto Heidegger tra i porti insomma un ruolo fondamentale non c'è alcun dubbio che parlare di questo rapporto come vedremo è un po' parlare in generale della filosofia di Heidegger quindi a maggior ragione la difficoltà del tema proprio perché poi Heidegger ha quella fiducia che tutti gli sanno insomma nella sapienza della parola e della parola tedesca in particolare che lui ascolta a volte come tutt'uno con la parola greca proprio per questo iniziamo con l'ascolto della parola della parola che qui informa tutto il discorso di Heidegger cioè la parola proesia in tedesco perché su questa Heidegger gioca gioca una roba serbica come sapete più intensamente cioè la parola diphtum che qui noi traduciamo polisia e vedremo come questa traduzione sia del tutto impropria rispetto a ciò che Heidegger intende con questo termine che cosa ci dice la sapienza di questa parola? diphtum la radice è una radice ben nota comuna a tutti gli idiomi europei deik diphtum in greco vuol dire io mostro, io manifesto manifesto con l'indice con l'indice indicando manifesto indicando non è manifestare qualsiasi ma è manifestare indicando mostrando con l'indice ma la stessa radice deik che in greco dà deikimi e cioè mostro, manifesto, indico in latino dà dicere dire che in tedesco si deve pensare dire in latino è sì manifestare mostrare come il tecno greco ma nominando non indicando ma nominando parlando è un questo significato di teacher risulta ancora più chiaro se noi pensiamo ad alcune espressioni che derivano da teacher per esempio dedico no? dedico rafforzativo di teacher mostro solennemente con un sacco non dico soltanto ma de-dico dico in un senso più forte solenne viceversa ab-dico no? che vuol dire rifiuto di riconoscere non mostro oppure mi sottraggo all'essere visto no? ab-dicare andarsene non essere più mostrabile non essere più visibile queste espressioni dedico ab-dico eccetera che suonano anche in italiano rendono ancora più forte il significato di dicere il significato originario di dicere molto affine a te in igre un mostrare sì con la parola ma un mostrare appunto che può sia solennemente consacrare come ritirarsi dalla manifestazione in parole come in verbi come dedicare applicare eccetera è evidente la sfera sacrale di questo dicere la sfera sacrale è la sfera del diritto è proprio questa la sfera in cui la forza della radice di Teic risuona con più intensità dov'è che vediamo con chiarezza questa 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 dimensione pensate a iudex no? il giudice colui che dice che mostra che dice che dimostra che fa valere il ploius in giudice questo dire il dire del giudice assume quasi qualcosa di inappellabile ma di inappellabile perché si connette oltre quello che noi chiameremo diritto positivo alla stessa dicche stessa radice decmi dicche greche cioè questa è la relazione essenziale che già ci avvicina alla sfera giunta insieme poi anche il diagliano dicche è la manifestazione cos'è dicche? cosa significa dicche? dicche è il manifestarsi ma mostrarsi manifestarsi di un ordine che informa di sé o dovrebbe informare di sé ogni disposizione giuridica ogni disposizione politica il nesso tra dicche come ordine diciamo cosmico e la legge nomos come risuoni in eratito e poi lungo tutta la nostra cultura la nostra tradizione il problema è tutto noi diremmo il problema del rapporto tra diritto e giustizia continuamente ripetiamo questo problema ritorno incessantemente il problema del diritto e giustizia e non c'è dubbio che tutta la tematica del diritto naturale dei diritti umani eccetera che c'è su tutte forme secolarizzate del tema dell'articca e del rapporto tra un ordine di carattere cosmico e il diritto positivo che deve valere e qui obbedire nella polis nell'ordine politico giuridico propriamente inteso ecco ma nessun ordine abbiamo seguito fin qui il discorso nessun ordine nessun dispositivo politico giuridico potrà mai essere tale da esaurire in sé o da mostrare pienamente in sé da sé di che qui già subentra appunto un'idea di differenza e che va tenuta ben presente per tutto il discorso lo svilupperemo potremmo già dire proprio così ogni disposizione giuridico politica può solo compiere rappresentare una per me heideggeriano una erlotterum di ditte una illustrazione una interpretazione della ditte ma mai esprimela pienamente mai essere una erclevung distinzione fondamentale di Heidegger no? l'otterum sono quelle che Heidegger fa di Helderleu non erclevung non ci potrà mai essere un erclevung una piena illuminazione della ditte di ciò che si mostra come ordine cosmico meta politico meta giuridico meta etico ma soltanto appunto ma soltanto una interpretazione un'illustrazione una approssimazione altro termine un annerum altro termine che ritorna spesso in un avvicinamento l'erlotterum è un avvicinamento alla a a ciò che viene detto nella ditte e vedremo nella dittung ciò che viene che la poesia dice in quanto dittung o di ciò che appunto giustizia dice in quanto ditte ogni dispositivo dispositivo tecnico giuridico politico eccetera eccetera ogni interpretazione sarà solo una un un tentativo di far luce all'erlotterum mai una ecco una spiegazione esaustiva completa compiuta dictare da cui dictung compreso la famiglia linguistica in cui stiamo muovendo e che bisogna sempre avere nell'orecchio dictare è una forma del dire del dicere quale è un intensivo di una forma intensiva di dicere in essa si mantiene inalterato il senso originario del manifestare della manifestazione ma si enfatizza che cosa nel dictare così come risuona nel senso latino cosa avviene rispetto a dicere nel dictare il senso del manifestarsi con la parola è uguale ma si enfatizza il manifestarsi il manifestare qualcosa con forza ad altri come quando noi diciamo dettare io non detto mai a me stesso detto a te si manifesta questo elemento con forza un indirizzarsi ad altri io dico attenzione ad alta voce nel dictare io dico ad alta voce affinché altri ripetano seguendo questa è la forma del dictare io dico ad alta voce affinché altri mi seguono ripetendo ciò che io ho detto dictato viene da dictare chi è il dictato chi è il dictato che appunto i latini spiegavano come verbo a dictando che viene da dictare chi è il dictato è qualcuno che dice 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 ad alta voce dice e il suo editto 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 dice di nuovo pronumine sempre osservato sperano così drammatici latino è colui che dicta dice ad alta voce indirizzato ad altri e ciò che dice il suo editto è osservato come qualcosa di questo è il dictare latino quindi questo ha nell'orecchio Heide quando parla di dictum tutti questi significati tutta questa famiglia di termine risuonano quando lui scava nella sapienza della parola per tentare di ero da oltre di illustrare il senso della dictum per i medievali così anche Dio poteva essere detto sommodictato Dio poteva essere detto sommodictato gli uomini devono infatti cosa devono fare assolutamente uniformarsi come io sotto dettatura assolutamente uniformarsi il suo detto devono tentare di ripeterlo perfettamente senza errore e infine Dante da cui deriva poi tutta la sequela che conduce fino a Heidegger i dictatores illustri che sono i poeti presidamente i trovadori coloro che dicono così cantano cantano il canto sarà un termine che continuamente ritorna in Heidegger il canto la dictum implica il canto dictum o canto dictatore lui sono i trovadori per Dante cioè coloro che cantano secondo forme attenzione anche qui che rendono possibile il ripetere e per quando io ho detto non posso dire semplicemente c'è anche una forma del dire nel dettaglio perché devo permettere che l'altro in dirizzo possa ripetere quindi deve essere un modo particolare di parlare di dire il dettaglio perché implica che io mi indirizzo ad un altro e che quell'altro possa ripetere ciò che io dico e quindi i dictatori s'illustri sono coloro che dicono cantano secondo forme che rendano possibile ripetere e qui dire manifesta qualcosa questo è chiarissimo in Dante per lui per primo ovviamente che manifesta qualcosa nella forma che ho detto ma che manifesta qualcosa che può essere considerato divino pro-lumine in una comedia e se no non sei un dittatore illustris se detti semplicemente devi dire dire secondo forme che permettano di ripetere dire ad alta voce cantare in modo che l'altro possa seguirti e ripeterti ma poi il contenuto diremo noi molto banalmente perché non c'è nessuna differenza in questo caso tra forme e contenuto come mai nella poesia deve essere osservato deve essere indicabile come qualcosa di divino bene questa è la famiglia però credo utile perché se no sta dittum sta roba qua aula invece qui c'è una sapienza della parola che può essere etimologicamente indagata illustrata con precisione Heidegger omente tutta questa spiegazione che è giusto introdurla per capire che non è soltanto auratico il suo dire o così a volte anche fastidiosamente profetizzato ha la base una sapienza una ricerca sapiente dell'etimo come i grecoli intendevano il termine etimo similizzato reo anche al di là della radice propriamente linguistica della parola ora per Heidegger questo dire che è il dictare questo dire nella lingua tedesca significa poetare ma anche in alto dictato illustri sarà il poeta trovador a volte commenterò così tra parentesi tutti gli ascendenti del discorso e dei guerriani alcuni consapevoli Heidegger altri del tutto inconsapevoli perché secondo me uno dei limiti più forti del discorso e dei guerriani è la sua totale ignoranza della filosofia italiana della tradizione filosofica italiana ignoranza di cui Heidegger era anche consapevole perché mi ricordo che anni fa parlando con Cesare Lupolini appunto che aveva avuto la fortuna e sfortuna di assistere le elezioni di Heidegger proprio nel periodo in cui Heidegger assunse il rettorato di Feigl e Lupolini raccontava appunto lo shock che ebbe ascoltando insomma estendo via a Feigl nel momento in cui Heidegger conciò il famoso discorso di rettorato e Lupolini poi se ne andò da Feigl dopo quel discorso di Heidegger aveva cominciato a seguirli eccetera eccetera Heidegger gli aveva proposto di tenere gli seminari dei corsi sul pensiero italiano che lui non ha capito a vedere l'indice di nomi ignorano e ha un limite molto grave a mio avviso anche perché ritengo sempre più in vecchi anni dopo il settato esterofilo di non mi do da giovane che il pensiero italiano abbia qualcosa di essenziale da dire alla contemporaneità e indicherò alcuni punti proprio di spottentare allora per Heidegger questo dire diktare che nella lingua tedesca significa poetare cosa significa però questo diktare per Heidegger è originario sia della poesia e lui qui in questo caso impiega il termine poesia il nostro e della filosofia cioè la diktung è propriamente l'essenza l'essenza nascosta aggiunge Heidegger sia del pensare che del cantare questo è un punto essenziale da comprendere perché se non lo si comprende si travisa tutto il pensiero di Heidegger questo proposito è essenziale comprendere cioè che l'essenza della filosofia stessa può essere interrogata solo nella relazione tra pensiero e poesia perché tale relazione è la diktung cioè la diktung è l'essenza nascosta originaria sia del pensare che del cantare non è semplicemente il cantare non è semplicemente la poesia come poesia ma per quello riflettere sulla diktung è essenziale per la filosofia perché si tratta per la filosofia riflettendo sulla diktung di riflettere sulla sua stessa essenza che è un rapporto originario con la poesia e il canto nella diktung dice Heidegger si fondano pensiero e canto la diktung non è né pensiero né canto ma è il loro rapporto il loro gioco il loro xenon il loro comune dove comune va inteso in senso proprio comune cioè ciò che non appartiene né all'uno né all'altro ciò che non è proprio né dell'uno né dell'altro questo è importantissimo da tenere fermo tenere fermo questa idea della diktung come ciò che aggioga originariamente poesia e filosofia il loro rapporto altrimenti si intende completamente il pensiero edigeriano se lo si intende soltanto come se ne intende la diktung soltanto come una e la ricerca di Heidegger sulla diktung come una anelante nostalgia del filosofo per la poesia non c'è niente di questo di questo aspetto così come dire tardo e romantico e spurriamente anche romantico di Heidegger si intende su questo perché quasi sempre viene equivocato così viene paraprasato così perché la maledizione del discorsi sulla diktung Heidegger è che quasi sempre si tratta di testi paraprastici paraprasi che cercano di fare il verso anche agli aspetti oscuri del linguaggio della terminologia di Heidegger dunque diktung non è propriamente nessun poetare nessuna poesia è diktung ma ogni poesia fa richiama facendo indica quel medesimo di pensiero e di canto che la diktung è questo è il problema la diktung propriamente non è mai questa determinata composizione non potremmo dire questa è una diktung non si dà mai come questo poema questo poema questa cosa fatta poesis poema questa cosa determinata fatta sia poesia che filosofia provengono dalla diktung e sono in questa comune archè e sono da questa comune archè da questa origine comandati archè no? significato il greco di archè origine non un'origine che comanda un'origine che destina sempre no? non un'origine cronologica che resta lì un'origine che informa continuamente in ogni momento il divenimento successivo e sono da questa comune archè appunto indirizzati direi proprio indicati cioè la loro storia è segnata dalla diktung la storia di filosofia e poesia è segnata dalla diktung che cosa significa questo? in che termine dobbiamo pensare questo appunto al di fuori delle mitologie? in che termine? la diktung è l'unità Heidegger pensa la diktung come l'unità originaria del dire che canta trattino che pensa il dire originario che è insieme ancora l'unione il gioco lo sinone il comune di canto e pensiero è la diktung è la lingua di questa unità la diktung la lingua di un'unità originaria del dire che canta e del dire che pensa che rimangono dure ma indistrungibili nel loro essere comune la lingua di questa unità è questa archilingua diciamo la diktung la diktung è propriamente questa archilingua questa lingua del dire che canta del dire che pensa che comanda la gefichte il destino successivo che cosa dice questa archilingua che è la diktung dice l'esserci nel suo esforzo al mondo è la lingua che si appropria dell'esserci non la lingua fatta poiesis questa lingua questo artificio che rimane da questa determinata poesia che è un artificio arte la parola latina che traduce appunto poiesis e la traduce bene perché indica come poiesis indica il fare poiei così l'arte indica la forma specifica del fare che è un connesso un congiungere determinato che si distingue storicamente formalmente storicamente ecco invece l'archilingua della dictum come la pensa Heidegger non è la lingua fatta costruita di questa poesia di questa poiesis ma è la lingua non fatta dall'esserci non fatta da nessun poietes da nessun artista ma che ha l'esserci l'esserci la abita l'esserci è nella lingua è è posseduto da questa archilingua nella dictum ciò si manifesta che il linguaggio ha l'uomo e solo in questo senso solo perché il linguaggio ha un uomo solo in questo senso l'uomo è l'animale che può disporre della parola la dictum allora come la pensa Heidegger è l'evento ma l'evento non traduce Heidegger nel senso qui è molto importante anche qui intende cioè nelle traduzioni quasi sempre Heidegger viene tradotto evento e Heidegger è il termine chiave di Heidegger a partire dagli anni 30 un grande trattato sistematico che lui immaginava di poter compiere non ha mai compiuto avrebbe dovuto intitolarsi sostanzialmente appunto vai traere i contributi alla filosofia forma Erasmus intorno alle Erasmus noi lo traduziamo evento ma evento non dà l'idea e proprio la riflessione sulla dictum indica precisamente che cosa Heidegger ha vestimenti con Erasmus la dictum è l'appropriarsi da parte dell'essere attraverso il linguaggio dell'esserci questo è l'evento chiave possiamo dire anche evento ma come un evento viene che non è un evento che ha caratteristiche temporali perché quando indica quando vuole indicare questo l'accadere Heidegger non impiega il termine Erasmus in termini banali di Geshe per indicare i composti vado per indicare l'accadere no l'Eraimus è l'evento fondamentale originario che la dictum manifesta indica dice la dictum dictum come archilingua l'evento originario in base al quale accade l'appropriarsi reciproco di linguaggio e esserci questo è il significato filosofico di dictum per questo Heidegger dice che per pensare la filosofia occorre pensare la dictum non dice in modo appunto ripeto banalmente romantico che il filosofo deve innamorarsi della poesia il filosofo va in cerca di ricerca di illustrare erologico questa archilingua che lui chiama Heidegger chiama dictum che non è ovviamente nessun canto specifico e nessun pensiero specifico ma è l'evento eragini sono spiegati che termine l'evento dell'appropriarsi di linguaggio esserci o meglio ancora quell'evento in base al quale il linguaggio ha l'uomo questo è fondamentale tenerelo presente però poi quando vedremo appunto che la dictum propiamente vi mostra come noi non abbiamo a disposizione il linguaggio ma tutto questo ragionamento che andremo a fare ha questo presupposto sistematico per così dire allora è chiaro che nessuna poesia come nessuna forma di pensiero potranno mai manifestare tale eragini il discorso che abbiamo fatto prima per la dica nessuno potrà manifestare nel senso dell'ercleo rimane l'essenza nascosta di ogni canto e di ogni pensiero ma nessuna poesia e nessun pensiero specificatamente nessuna forma discorsiva specifica potranno mai essere cioè potranno mai manifestare pienamente compiutamente quel evento potranno ricordarlo il grande commento a Andenken di Helderby da parte di Arche potranno ricordarlo sarà Andenken potranno risalire ricordare l'archet che da cui sono informati ma mai disveragolo ma attenzione se non sapranno se ogni poesia e ogni forma del pensare non sapranno mostrare dictare dicere non potranno mostrare non potranno fare indichi mostrare che fanno che indicano quella che è quella lingua cioè se non sapranno mostrare indicare la loro relazione con questo rapporto originario tra il dire che canta e il dire che pensa non saranno né poesia né pensiero cosa saranno? Saranno prosa e metafisica la prosa e la metafisica sono quella virgolette poesia e quel virgolette pensiero che non sanno che hanno dimenticato che non sanno ricordare la loro relazione con quella archilingua che la dictum è nessuna poesia e nessun pensiero saranno erclemon di quella archilingua ma se non sanno in qualche modo farne cenno diventeranno prosa e metafisica prosa cosa vuol dire prosa? è l'oblio del dictale prosa qual è l'origine cosa vuol dire prosa? è l'orazio proversa non la prosa proversa che vuol dire la prosa è il dire gettato nel discurre proverso nel discurre è la negazione del verso del verso la prosa è la negazione del verso il verso cos'è? ciò che ritorna il ricorrente del verso e cioè quindi è il mostrarsi della fatica dello streven eh al ricordare e la poesia esige proprio questo esige che di essere ricordata di essere appresa la pranto parche ricordata cioè una 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 dei segni uno dei segni più nefasti dell'appunto l'esempio più tipico che noi abbiamo obbligato totalmente questa dimensione è il fatto che guai a imparare memoria o giusti la poesia va imparata a memoria va imparata a memoria se non impari memoria la poesia non capisci questa distinzione fondamentale tra la prosa la prosa non va imparata a memoria la poesia va imparata a memoria perché è il verso contro il proverso della cosa la poesia va appresa dal cuore e temuta al cuore retenire facchè a memoria c'è una pagina molto bella di Derrida a questo proposito che comprende perfettamente questo punto delle indagini di Heidegger sulla Dichtung e la metafisica la metafisica è l'oblio della verità della verità come disvelatezza che salva in sé l'occulto varen varheit che Heidegger interpreta così il termine varheit varen prima parte come il conservare il custodire in sé l'occulto l'occulto cioè ciò che mai può essere totalmente disvelato perché la dictum mai potrà essere oggetto di un Erklere di una spiegazione esaustiva compiuta la metafisica oblia questo come la prosa è oblio del dictare così la metafisica è oblio della verità come disvelatezza che salva in sé varen l'occulto in questo senso specifico che salva in sé la filosofia la vera filosofia il vero pensiero salva in sé il pensiero diciamo mai perché come la filosofia a un certo momento per Heidegger diventa equivalente a metafisica quindi diciamo il pensiero che salva in sé la dictum nella sua originalità cioè quel pensiero che sa che ricorda costantemente l'origine l'archilingua l'archilingua non vi viene in mente nessun italiano questo proposito è dico è dico è assolutamente dico prima della filosofia no il laborio dei filosofi che credono di poter svolgere il loro discorso in termini autoreferenziali ma dimenticano che prima di loro c'è appunto un'archilingua o prima ancora gli bestioni e e se dimentichi questo dimentichi la tua archè non dimentichi una cosa qualsiasi dimentichi la tua archè nella tua lingua dimentichi l'archilingua che continua a informarti e che può ogni volta ritornare ripetere allora facciamo il primo punto di queste riflessioni nessuna idea in Heidegger della poesia come compimento del pensare il pensare che riesce nella poesia che cessa di essere pensare e diventiamo tutti poeti nulla di tutto ciò la dictum è l'intimo colloquio di canto e pensiero ma ovviamente tal'intimo colloquio è destinato a sfuggire sia dalla forma poetica determinata che da quella del pensiero determinato e tuttavia una poesia l'infinito quello che volete una poesia è la linea conegna il canto schipano quello che volete tuttavia la poesia può essere detta dictum soltanto nella misura in cui il suo canto sia verso 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 la dictum propriamente intesa in cui il suo canto si verta si converta alla dictum meglio ancora né riveli riveli perché disvelo non è possibile né riveli l'essenzialità e la filosofia è tale che non è metafisica è pensiero e cesse di essere filosofia trattino metafisica nella misura in cui sappia indicare far memoria dell'originario vespreico dell'originario colloquio tra il canto e il pensiero non si darà mai dictum in sé non sarei mai di fronte ad un oggetto determinato che puoi dire è una dictum questo è anche il senso dell'interpretazione di Hedderi Hedderi è colui che ha indicato la dictum ha indicato il problema della dictum l'interpretazione della dictum di Hedderi più che ha l'interpretazione di Hedderi come il cantore della dictum il cantore il verso della dictum e allora non si darà mai il dictum in sé ma da essa dalla dictum si dà pensiero poitante e poesia pensante il termine poesia pensante è Nietzsche molte delle cose che sto raccogliendo arrivano anche dall'enorme libro di Hedderi secondo me il suo capolavoro non può essere il tempo che è il Nietzsche pubblicato nel 60 libro straordinario è poderoso molte di queste molte delle riflessioni di Hedderi che intorno a cui gli derivano anche dall'inflessione intorno diciamo così all'estetica di Nietzsche ecco dalla dictum mai oggetto in Ercleo derivano pensiero poetante il pensiero che fa l'oggetto che si dà come problema suo essenziale quell'archilingua che è la dictum e poesia pensante quella poesia che in sé pensa il problema dell'archilipo per Heidegger lo straordinario è Hedderi perché in Hedderi vi vedi in qualche modo insieme pensiero poetante e così a pensare ma appunto se noi riflettiamo su questo comprendiamo che anche per Heidegger poi non ci possa essere nessuna poesia pura questo è molto importante questo aspetto della discussione sulla dictum in Heidegger credo che occorra riprenda perché se noi lo svolgiamo come cerco vi svolgerò io allora siamo sempre di fronte ad un iglio una contaminazione l'idea della poesia pura quanto povera quanto astratta quanto è così come di un pensiero che possa essere pensiero tutto formalizzato e che possa far almeno di svolgersi per immagini per figure ogni pensiero in qualche modo è poitante di ogni poesia è pensante e di volta in volta occorre determinare le forme di questo liquid di questa contaminarsi alla luce della dictum perché altrimenti diventa appunto minaccia di cadere in cattivo pensiero cattiva letteratura viene una tensione appunto in questo colloquio è una tensione dalla poesia attraverso il pensiero alla dictum e dal pensiero riflettendo sulla poesia alla dictum ancora un equilibrio difficile mai perfetto diceva Kolarich ha proposto proprio del metro e dell'importanza del metro una benefica lotta il metro una benefica lotta dunque dictum è un rapporto questa è la prima è un rapporto non è questa cosa qui è un rapporto quindi nessuna mitizzazione della dictum dobbiamo pensare un rapporto un rapporto originario una un'originaria dualità di inseparabili come abbiamo visto e quindi il loro stesso progressivo distinguersi che per Heideg è attenzione il destino della nostra cultura il progressivo separarsi il progressivo la progressiva impotenza a ricordare questo gioco originario per Heideg è certamente un destino ma lo stesso progressivo distinguersi di queste due dimensioni è reso possibile dal fatto che c'era questa comunità se non si potrebbe nemmeno parlare di distinzione noi possiamo renderci conto pensare la distinzione e poi aggettivarla come vogliamo ma non importa diventa questo pericuzione può piacere o non piacere ma non importa possiamo pensare il distinguersi di poesia e pensiero soltanto alla luce del loro comune del loro comune del loro sinonimo del loro colloquio originario in quel colloquio canto e pensiero non sono lo stesso mai mai ma si coappartengono cioè nella dictum rimane pensiero e canto ma rimangono nel loro coappartenersi accade Erasmus il loro coappartenersi ma rimangono due non è un uno che si sdoppia poi è chiaro? cioè pensiero di Erasmus non c'è un unità originaria che chiamiamo dicono che poi si sdoppia misteriosamente come il problema neoplatonico di come dall'uno di molti non è così originariamente c'è pensiero e canto nel loro coappartenersi ma si appartengono i due e questo rende possibile poi il loro separarsi perché originariamente non c'è un uno allora mistero com'è che l'uno si sdoppia com'è che l'alluni molti no Heidegger non pensa assolutamente in questi termini neoplatonici la sua è proprio una filosofia che contraddice ogni possibilità enologica cioè questo coappartenersi non è l'unità originaria di pensiero e canto è il colloquio originario del pensiero e canto a cui nelle loro forme specifiche tendono sia pensiero che canto poiché all'origine è questo colloquio il colloquio poi in ogni momento poi in ogni momento venire meno venire meno e per questo è sommamente pericoloso il colloquio come dice Heidegger quando commentando è sommamente pericoloso perché nel colloquio implicita sempre in ogni momento la possibilità che il colloquio cessi non del fraintendersi soltanto ma proprio che cessi il colloquio che venga meno il colloquio allora il poeta il poeta come lo intendiamo noi quello che scrive poesie il poeta è colui che vuole lo neos in questo la dictum vuole la dictum che vuole volontà volontà qui il libro smice l'arte come volontà l'analisi che Heidegger compie della 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 delle riflessioni iniziali sull'arte appunto tutta la luce della della volontà come senza dell'essere che vuole essere verito è una volontà di arte che per Heidegger inice gli viene la espressione somma della volontà di potenza ma perciò e qui non so quanto Heidegger abbia tratto questa conseguenza ma avrebbe dovuto dovrebbe trarla un punto da discutere se se questa se questa interpretazione che vado svolgendo è fondata allora il poeta può essere soltanto colui che vuole essere dito volontà volontà di potenza ma perciò bisognerebbe ammettere bisogna ammettere che il poeta è colui che soffre massimamente dell'assenza della dictum e cioè che il poeta è la più impoetica delle creature vuole dictum proprio perché non è dicter e chi ha detto questo? uno dei più grandi poeti che hanno riflettuto hanno pensato l'essenza della dictum cioè Keats che dice appunto che il poeta Keats anche anche gli inglesi non sono certamente accetto la professione di Heidegger è la conseguenza inevitabile il poeta che è colui che esplicitamente mostra dice di dictare dice di voler essere dictum di voler attingere di voler ricordare Andenken quel quel gioco originario che è la dictum quel colloquio originario che è la dictum proprio perché vuole questo e la sua volontà di potere rappresentare dimostrare la dictum è è è la più impoetica delle creature soffre nell'essere la più impoetica delle creature perché è quella che avverte la distanza dalla dictum che nel discorso normale nella prova normale nessuno avverte mai a mio avviso Heidegger dovrebbe dovuto proprio a questo punto della sua riflessione proprio svolgere un'ermeneutica più attenta e di Heidegger perché Heidegger non è io tanti anni fa mi sono soffermato su questi limiti delle interpretazioni di Heidegger dei poeti sono tutti alla luce di una sono tutti letti alla luce di una di un indicare la dictum certo senza nessuna particolare di un indicare la dictum ma in quello indicare la dictum giungono come dire a un'opera soddisfatta sono indicano la dictum certo non la non la comprendono la dictum e tuttavia il dicter per Heidegger a mio avviso rimane colui che non soffre cioè l'accento non è posto sulla sofferenza del poeta Hilder in Kitz ma anche Trache ma lo stesso Milke sulla sofferenza dell'essere che per questo loro volere manifestano manifestano mostrano l'inpoeticità di questa di questo abitare di questa vita un Dittrich buone del intermedio questo mostra la poesia la lirica contemporanea la lirica contemporanea l'ereggia contemporanea questo è un'erbisomostra a questo a questa conclusione del suo esegesi Heidegger non giunge l'oggi è impoetico per la poesia che Heidegger per la stessa poesia che Heidegger ama anche se nessuno dei poeti che Heidegger ama ha così esplicitamente tratto le conseguenze di questa Erleutung come ha nel viso le ha tratte Kitz nelle sue riflessioni sulla poesia cioè provo a spiegarmi se mi riesce un po' meglio il poeta moderno moderno è davvero solo domanda è ecstasy che sta fuori costantemente ma nel senso certo come prezza come volontà di produrre come esaltazione anche della dimensione propriamente poetica l'artificio il miglior fabbro di cui parla anche Pound ma tutto ciò appunto nella consapevolezza dolorosa che lui ha di essere suprema finzione per verla con il grande poeta americano Stevens suprema finzione l'elemento finzionale l'elemento artificiale non gioca un ruolo centrale nell'interpretazione di Heidegger Heidegger che lo vede soltanto alla luce della volontà di potenza dell'arte della volontà di arte come somma volontà di potenza ma poi quando analizza le poesie alla luce della dictum questo elemento che io definirei ovviamente tragico della lirica della lirica contemporanea a mio avviso viene questa dimensione per cui la poesia è forma del distacco dalla dictum è un ricordare la dictum che mette mette in mostra mette in mostra costantemente il distacco dal dictum mette in mostra costantemente l'un dictum del nostro abitare e questo forse proprio il timo il tono fondamentale della grande lirica contemporanea e non a caso Heidegger vedete non analizza nessuno dei grandi della della poesia contemporanea sì certo Rilke tra certo però i novatores del linguaggio i Beckett i Joyce i Kafka i Musil sono assenti e questo è veramente indicativo così come assente un altro Shakespeare cioè il linguaggio di Kevin Beckett secondo me è un autore decisivo per capire per capire il destino dell'arte noi dobbiamo usare i mezzi della impotenza il rovesciamento dell'arte come vuol dottare l'impotenza Heidegger è fermo a quello schema è una geniale reinterpretazione di tutta la riflessione micciana sull'arte oltre quella specifica appunto in termini niente affatto da cattiva letteratura o da o da mitologie profetizzanti l'essenza della dictum e tuttavia appunto quando prendi in esame la poesia nella sua concretezza nella sua vivacità la poesia per lui è quella ancora e poi alla fine giunge alla grande forma che ho che rinche stesso già con Trakler fatica fatica tremendamente la sua interpretazione heldering è è davvero pensiero portano nella sua interpretazione ma il timbo l'accento capri essenzialmente sul pensiero e non ne viene vista l'affinità proprio spirituale con l'altro grande inglese ed è molto indicativo all'assenza di festo è un gusto è semplicemente indici di un gusto che no a mio avviso è proprio il fatto che non si non 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 si non si giunge alla conclusione ultima di quella che era l'istanza fondamentale anche della sua riflessione per lui alla fine per Agner alla fine conta soltanto quella parola che esplicitamente intende ricordare la dictum come colloquio originario di pensare e di canto ma la parola che testimoni che mostra il fallimento in un anfragio di questo tentativo quella parola pepe quella parola non è ascoltabile non è non è non è ascoltabile dal secondo l'ottica appunto di Hegel mentre secondo me lo sarebbe secondo l'ottica della grande estetica di Hegel già da tornare a Hegel oltre a te qui da un tempo ma insomma beh ha una riflessione accurata attenta di ciò che per Hegel è il significato della famosa per volete morte dell'arte per Hegel che racconta la poesia nella quale sia in gioco in cui lui possa indicare la verità come ciò che custodisce custodisce e laddove la poesia invece mostra di non poter più custodire l'impotenza i mezzi dell'impotenza con cui dobbiamo operare dice Becker del Zoffo Joyce e lì la sua interpretazione cade cioè la sua interpretazione della poesia non ha gli strumenti fondamentali per interpretare una poesia dell'impotenza questa è la mia idea tutta da discutere nella realtà non ha i mezzi per indicare il come come il linguaggio dell'uomo contemporaneo sia un bene perduto non ha i mezzi per indicare il rapporto non tanto tra il linguaggio della poesia e quella dictum che non potrà mai essere perfettamente disvelata che quindi ha in sé sempre una dimensione del silenzio custodisce anche il silenzio si custodisce anche il silenzio perché quella dimensione originale non potrà mai essere detta integralmente quindi certo che anche in Heidegger la poesia il dicere è connesso intimamente al silenzio ma e questo lo può dire la sua interpretazione ma ciò che non può dire la sua interpretazione è il silenzio successivo per così dire non il silenzio originario che fa tutt'uno con lo stesso dire che è elemento del dire come la pausa è l'elemento della musica ma il giungere al silenzio il farsi silenzio della poesia se quello quello quel 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 destino quella che è schist della poesia per cui riesce nel silenzio quello non può essere a mio riso illustrato questo sommo pericolo non può essere illustrato per Heidegger il sommo pericolo è soltanto quello che il colloquio finisca ma cosa che significa che il colloquio finisce la possibilità che il colloquio finisce il pericolo vero del colloquio appunto è il suo farsi silenzio non il silenzio che è intimamente connesso al colloquio perché un colloquio deve presupporre il silenzio esattamente come la pausa come la musica presuppone la pausa è evidente per colloquiare mentre tu parli o taccio ma è il silenzio ultimo il grande pericolo del colloquio e la poesia che indica non la dicstum originaria ma la dicstum che riesce nel silenzio questo che è il lato tragico della poesia contemporanea non è non può essere un verso autenticamente ascoltabile da Heidegg e tuttavia nel discorso di Heidegg una cosa rimane assolutamente fondamentale e implicito in tutto quanto abbiamo detto cioè che questo rapporto tra la poesia e dictum termine che abbiamo detto ci comunica questo è l'elemento fondamentale su cui Heidegger continuamente ritorna ci comunica questo ci comunica che la parola la parola che la parola che la poesia dice verso la dictum verso la dictum non è al servizio di idee di visioni del mondo di ideologie per i pittori dice Heidegger come per il poeta non vi sono mezzi il colore è colore la parola è parola non sono impiegabili per altro non sono occupabili da altro la poesia questo vuol far sentire sapere sapere gustare attraverso appunto la tua appartenenza nel suo dictare di pathos e di logos questo vuol far sentire che la parola come per il pittore il colore non è un mezzo che noi vi apparteniamo non che loro sono cose a nostra disposizione che noi vi apparteniamo e apparteniamo a quella archilingua che le sostiene e che come tal non potrà mai essere detta integralmente e esaustivamente questo è il punto fondamentale su cui arriva costantemente ritorna ed è quello che dobbiamo tenere fermo ma non è in questo facciamo un ultimo passo da Heidegger e forse un po' oltre ma non è che in tutto questo discorso che abbiamo cercato di tracciare anche praticamente se non è riuscito in parte la filosofia e a volte questo sospetto viene leggendo i testi di Heidegger dedicati al tema sono praticamente tutti ripeto dagli anni frenti un po' non è che la filosofia si faccia che il pensiero filosofico diciamo meglio si faccia illustrazione erloiterum del significato della dictum per cui viene meno poi alla fine ogni vera differenza tra pensare e pensare il dictum la filosofia il pensiero filosofico abbiamo detto non è dictum perché è interrogazione della sua parola dice Heidegger non è la parola della dictum il pensiero filosofico però è antwort è diciamo la parola che risponde alla chiamata al word che la dictum esprime mostro quindi dice Heidegger la differenza sta in questo che il poeta è la parola la parola che indica indica la dimensione della dictum mentre il filosofo è antwort a questa parola spiega spiega Heidegger questo indicare la parte della poesia la dimensione della dictum ma è sufficiente questo per stabilire la differenza che va tenuta ferma anche per la considerazione di Heidegger che va tenuta ferma la differenza e qui i poeti possono aiutarci a comprendere forse più del filosofo io mi avvalerei di un grande saggio di Valéry di Paul Valéry dedicato proprio al tema del rapporto della differenza tra pensiero e canto dice Valéry posso è un bellissimo saggio anche da un'ottimità letteraria io lo sintetizzo in micro concetti dice Valéry il procedere della poesia il procedere della poesia è infinito cioè nel senso che non si esaurisce mai nell'effetto per sua natura non perviene mai ad una comprensione univoca rimanda ad una dimensione che lui chiama anarchica della lettura questo mi non sarebbe affatto piaciuta chiaramente Heidegger ma perché questo? perché il dire della poesia il dire della poesia questo digitale ossessione Heidegger il dire della poesia si incarna sempre in un suono in una voce il dire ad alta voce il canto ma non solo si incarna in corpi in movimenti in danze la poesia dice Valéry risensibilizza il pensare è una cosa l'altra che dice Zena la poesia è il luogo dove la lingua prende voce prende voce si sensibilizza in una voce in un movimento in un tono in un timbro canta canta dico la prima parola la prima espressione il primo linguaggio canta la filosofia invece il pensiero filosofico comunque muove alla comprensione di sé anche quando parla della dictum muove alla comprensione di sé adesso che vi sto parlando della dictum io vorrei cercare di arrivare ad una comprensione univoca del mio dire non vorrei al fatto che il mio dire rimadesse infinito interminato vorrei che potessimo alla fine accordarci appunto intorno a ciò che ora vi comunico necessariamente il pensiero filosofico se è tale e se non scimmiotta la poesia pensante vuole raggiungere questo fine la sua intenzione è questa e necessariamente volente volente o no nel perseguire questa sua intenzione cioè di giungere ad una comprensione finita ecco siamo arrivati abbiamo capito se è questa ed è questa per forza perché se no non è un altro se no si pasticcia e nel non vorrei aggiungere a questo deve deve epochizzare ridurre sospendere chiamatelo come volete quegli elementi che per Badevi risensibilizzano il pensiero e che sono propri di questo movimento di questo corpo di questo timbro di questa voce certo che tale riduzione dell'elemento corporeo o sensibile del pensare non è mai perfetta lo sappiamo sappiamo la fenomenologia contemporanea è ben spiegato appunto come non mi possa essere un pensiero puro ma ma mentre la poesia non persegue il fine non persegue il fine della della interpretazione dell'erotico definita perché per sua proprio la sua intenzione è invece quella appunto di suscitare sempre nuove comprensioni e questa non può essere l'intenzionalità del pensiero filosofico anzi l'intenzionalità del pensiero filosofico è esattamente opposta la destinazione del pensiero filosofico è esattamente quella di di dover giungere ad una comprensione univoca di ciò che esso dice per questo della poesia appunto può essere di solo ernotico allora ci comprendiamo anche perché della poesia possa essere della dictum possa essere di solo e di quella parola che è propria della poesia che esplicitamente ricorda Andenken la dictum la interpretazione segue obbedisce al senso infinito della poesia alla dictum infinito è anche l'approssimarsi del pensiero filosofico alla dictum ma esso ha luogo questo approssimarsi attraverso idee che debbano poter essere viste considerate e comprese a priori dal tono dal timbro dal corpo del linguaggio debbano poter essere considerate anche in sé debbano poter essere considerate anche di una lettura silenziosa tema fondamentale del passaggio dalla lettura ad alta voce che implica il verso che si avvicina necessariamente al campo alla lettura silenziosa per noi è naturale questo invece è una grande trasformazione culturale che avviene dal terzo quarto secolo prima parlavano ad alta voce prima leggevano ad alta voce si leggeva sempre ad alta voce comincia con 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 la con la vera e propria teologia e con la vera con la filosofia no questa lettura i testi dei grandi filosofi greci venivano venivano vegetati sicuramente di di oralità che si è perdita ecco questa questo rimane ecco rimane il vero problema rimane il vero problema il vero problema che la poesia solleva nei confronti o che la poesia solleva nei confronti del pensare e che è presente in realtà io lo sviluppo di nuovo ma insomma è un elemento che riprendo dal mezzo e dalla riflessione intorno ai suoi scritti e qual è il vero problema che la poesia impone al pensare è questo lo dico breve perché l'ho fatto già un po' lungo il filosofo sa la differenza sa da Platone sa da sempre sa la differenza tra Onoma e Ton nel cratino Platone dice che Onoma viene al Ton ma nello stesso momento viene ma viene ma in un momento si indica la differenza viene proviene cioè Onoma il nome viene al Ton lente ma proviene proviene e si distacca è una provenienza che distacca perché nello stesso tempo si sa che l'Onoma non è la cosa e allora il tema come il problema che la poesia la poesia nella sua concretezza nella sua determinatezza impone al pensare è sempre di nuovo questo è sempre di nuovo questo e cioè sentiamo sentiamo sapere sentire sapere sentire che il linguaggio ha una relazione con la cosa che il pensiero non può esprimere perché nel momento che Platone indica quella radice di Onoma il Ton dice che l'Onoma non ha niente a che fare con il Ton ma noi tuttavia continuiamo a sentire questo è un mistero noi continuiamo a sentire che le nostre parole hanno una relazione intima con la cosa che non si esaguisce nell'aspetto funzionale della parola per cui è il servizio della denominazione che non riusciamo a essere soddisfatti di nessuna interpretazione puramente funzionalistica di questo rapporto sentiamo che c'è qualcosa di infinitamente più di un artificio nel rapporto tra la parola e la cosa tra Onoma e con la rapporto che appunto del cratico Pratone tratta quasi ironicamente ecco non è questo che fa non è questo che la poesia sente che sa che il pensiero poetante la poesia pensante sa e che impone come problema al pensiero al pensiero filosofico nella poesia noi sentiamo che quel nome è davvero simbolizzato alla cosa questo Heidegger l'ha trattato in particolare nella sua erotica unilindica e nella sua erotica soprattutto delle guinesi noi sentiamo la poesia costantemente ci fa sentire questo ma non è un sentire sentimentale è un sentire che si impone al pensiero perché il problema del rapporto tra il nome e l'ente è un problema che continuamente si ripropone al pensiero la poesia è un patos patos logos per la singolarità della cosa cui risponde Antwo questa parola questa parola unica quando diciamo in questa poesia nessuna parola è sostituibile non puoi toccare quella parola ancora ragazzi non puoi toccare una la poesia non puoi toccare un'unghia della poesia se non se non puoi combinarle in te allora c'è questa unicità della parola per indicare quella cosa non è questo che ci fa sentire la poesia per dire quella cosa poteva esistere solo quella parola nessun altro ma questo è un problema per il pensiero un colossale problema per il pensiero come mai si dà questo come mai si dà una dimensione diciamola pure la dictum o ciò che è verso la dictum o il poeta verso la dictum una dimensione in cui in cui noi avvertiamo così così intensamente così direi inappellabilmente questo che il nome ha un rapporto essenziale di affinità con la cosa che fa diventare questa parola della poesia che fa diventare la materia della della parola simile al Petro dice Florensky dice Florensky il grande teologo filosofo e scienziato fa diventare la materia della parola simile al Petro la rende trasparente e così la manifesta allo sguardo nella poesia questo viene la materia della parola il corpo della parola diventa simile al Petro rende la cosa manifesta allo sguardo eh sì è proprio quella è proprio è proprio la cosa ecco hai veramente detto di dare la cosa non è così è artificio e la poesia contemporanea sente intensamente di non riuscire più a dire così la cosa questo è l'elemento tragico della poesia contemporanea e tuttavia nel momento stesso che la poesia più tragica contemporanea manifesta che non riesce più a dire con questa trasparenza che non riesce più a rendere così la materia della parola così simile dal vetro ma è tutto opaco tutto opaco come di nuovo in Beckett questa opacità e io avevo questa opacità il colore Beckett e Beckett nel momento stesso chi dice questo dice anche questa origine dice anche ciò che è stato perduto manifesta il perduto che è questo che è questo manifesta il perduto manifesta di quando tra virgolette quando si sapeva la poesia si gustava la poesia si sapeva la poesia come l'affermarsi in quella affinità straordinaria straordinaria perché nella posa nulla di tutto ciò di straordinaria tra parola tra parola e cosa ecco questo questo problema che la poesia pensante costantemente solleva può essere avvicinato soltanto da un pensiero importante grazie io devo ringraziare Massimo Cacciare di questa splendida conversazione che io dividerei in tre parti è una parte in cui si ha restaurato Heidegger nel senso che c'è un Heidegger di senso comune che dice una serie di cose di superficie auratiche ma invece Cacciare ha avuto la forza intellettuale di restaurare un Heidegger poi nella seconda parte dimostrare come Heidegger con il suo apparato in realtà sulla poesia sulla poesia concreta la poesia realmente esistente in realtà Zitti non riesca terza parte della conferenza è Cacciare è il suo pensiero terza parte della conferenza è il suo pensiero quindi è ricchissima no? è ricchissima quantità enorme di dimensioni dimensioni tematiche quindi uno può interrogarsi con Heidegger con il suo modo in cui Heidegger secondo me riesce bene solo con Erpernick con Erpernick riesce proprio bene non gli altri veramente fare lo riesca a meno e poi il pensiero di Cacciare in ultima vede la poesia diciamo gli ultimi due citati sono nella pittura Bacon e nella poesia teatro letteratura Bacon questi sono i due punti i due punti focali che sono però secondo l'analisi di Cacciare io sono perfettamente d'accordo con lui che sono estranei ma esterni sono del tutto esterni alla esperienza di Heidegger e non di Heidegger e non di Heidegger perché la morte della forma romantica dell'arte dove romantica non vuol dire la poesia romantica vuol dire l'arte che è sostanziale che ha sostanza che è verità è verità quando tu dicevi alla fine il nome è la cosa è la sostanza Heidegger è la sostanza cioè un'arte che parla della sostanza mentre l'arte contemporanea poi non sai non viene più a parlare della sostanza e tuttavia in Heidegger questo apparazzo teorico fondale che a me pare non vorrei ma non è fare una grandiosa invenzione di metà un'estraordinaria invenzione metaforica cioè questa questa filosofia come una incredibile invenzione metaforica che non non è dimittrici di nulla se non della produzione delle proprie grandi ore di metaforica la percepisco la percepisco ma non è non è negativo questo giudizio non è affatto negativo perché saper produrre metaforica è saper produrre pensieri non è che metafora in un senso banale per cui c'è una verità poi uno dice la metafora e cambia cambia la cosa cambia il modo di dire la cosa stessa metafora è pensiero è pensiero non è che sembra io ho percepito così il lavoro di Massimo e mi sono grattissimo perché dentro questo c'è un impegno questo è iniziato proprio a noi questa conferenza è proprio pensata per farla accadere qui con noi pensata attiene a noi che di questo ci sono profondamente riconoscenti grazie prego una domanda chiamiamola di natura filosofica non sono attento ai lavori una curiosità è una domanda di carattere storico la domanda filosofica è in fondo il pensiero che ci ha illustrato non è una cosmogonia è una riflessione approfondita su dei temi fondamentali ma mi pare ha un rapporto anche per non andare al neoplatonismo con la cosmogonia giovanea cioè in principio era il verbo e il verbo era Dio e poi Dio si è fatto carne eccetera eccetera ecco domando se questa questo ricorso questa questa memoria è sensata oppure è completamente architaria la curiosità mi è capitato a Salisburgo di vedere non programmata l'opera Capriccio di Richard Strauss mi sono accorto solo dopo che Richard Strauss non fa intervalli io non conosco il tedesco l'opera è durata 5 ore alla fine mi sembrava di capire era molto bella dopo le prime due ore è diventato bella ma tutto il dramma e tutta la poetica di quest'opera verteva sulla dialettica fra musica e testo quindi fra forse pensiero e canto chiedo se c'è una qualche relazione perché l'epoca dovrebbe essere più o meno coeva domanda storica invece soprattutto quando è arrivato alla volontà e alla ripresa nicciana della volontà di potenza ci sono state strumentalizzazioni e relazioni fra il nazismo e il pensiero nazista e Heidegger grazie se l'apporto tra parole e cose è un rapporto essenziale che cosa si è perduto quando la poesia contemporanea il poeta contemporaneo si misura si sperimenta e soffre quella affasia di cui parlavale prima che cosa si è perduto e perché si è perduto perché il dire diventa opaco è ragione l'anima metaforizza sempre insieme a tutti e questo trasporre in termini dell'atmo e tentare di approssimare di accomunare che cosa non è una metafora l'anima metaforizza sempre e questo fa Heidegger a volte in modo preciso attraverso quella precisione del pensare per me rinunciabile per cui la mia intenzione è rivolta ad una aggiungere ad una comprensione unicoca e certissimamente questa non è l'intenzione del poeta il poeta è suscitare interpretazioni suscitare ricerca suscitare in questo senso il poeta fonda Heidegger lo individua poi secondo me Heidegger proprio non ha direi proprio l'attenzione anche filologica critica necessaria a aggiungere a comprendere la determinatezza del fatto dell'artificio poetico tuttavia ci ha delle indicazioni fondamentali per capire come ho cercato di mostrare la differenza tra prosa verso eccetera eccetera quindi indicazioni fondamentali ma che rimangono quasi sempre da questo punto di vista indicazioni di metodo rispetto poi ad acchiappare la poesia vedere il quadro molte volte sono anche grandi cadute evidenti di gusto quando guardo un quadro quando leggi una poesia e d'altra parte questo è poi ecco l'unico grande filofo che veramente è straordinario da questo punto di vista cioè che non ne sbaglia una neanche sono un critico diciamo è Hegel però è è veramente formidabile l'estetica di Hegel però Hegel riconosce questo ho nota che lo riconosce con grande onestà è la grande estetica dell'Uccidente quella di Hegel per Hegel lo riconosce esplicamente e soprattutto nel Nietzsche lo riconosce e riconosce in piego il suo debito rispetto all'estetica italiana quindi non siamo di fronte come nel caso di Vico di una certa tradizione dell'umanesimo quello che io amo chiamare l'umanesimo tragico italiano da Alberti a Machiavelli a Leopardi eccetera eccetera di fronte un fenomeno di ignoranza portato riconosce l'importante ecco allora il questo che mi collega immediatamente all'ultima domanda ecco che cosa che cosa vede Hegel sostanzialmente al di là del suo inquadramento sistematico ma vede un fatto essenziale vede che l'arte proprio il proprio dell'arte contemporanea vorrei dire dimentica intenzionalmente quel timbo della verità come vare Heide come vare custodire conservare rammemorare sempre ma in questo rammemorare è evidente che è necessaria la grande forma perché nella poesia come la intende Heidegger è la poesia che incessantemente tende a farsi di Ktung a ricordare l'archilingua ma vedete la poderosità di questo apparato appunto i grandi canti i grandi inni etterliniali o la poesia tutta pensante e quasi filosoficamente organizzato nelle guinesi che puoi davvero anche tradurre in una sorta di saggio filosofico ma che cosa vede Heidegger vede che attraverso il gioco dell'ironia romantica e la crisi dell'ironia romantica è proprio questo l'aspetto che via via caratterizza sempre più l'arte contemporanea e non lo vede necessariamente negativo dice va è lì non è più lì la verità non è più lì la verità non è più va hait lì quello è la forma in cui si mostra in questo senso l'intesa della morte dell'arte che è stata costantemente tradisata quella è la forma in cui nel contemporaneo si farà memoria costante della morte della morte ma questa è la morte la morte dell'arte non è intesa come l'arte che non c'è più arte ma Heidegger non ha mai detto sta stupinando ha detto che l'arte diventa l'arte del morire l'arte l'arte diventa la forma in cui va in crisi di idee di verità che viene salvata di nuovo dalla filosofia e che se tu vuoi avere a che fare con la verità devi fare il filosofo ma questo vuol dire che l'arte non ha più senso ha un senso enorme enorme perché il filosofo che spinozianamente ha a che fare solo con la vita ma deve costantemente misurarsi alla forma del morire della morte se ha a che fare costantemente con la vita se non c'è neanche vita se non ci fosse la contraddizione della forma del morire questa dialettica che è essenzialmente hegeliana non c'è hegeliana ma senti quale filosofia ha una filosofia che si riconosce all'oralità una filosofia che riporta la dimensione dialogica fotonica una filosofia dove c'è il contraddizione dove si riesce ad intervenire il gesprecht di Heidegger non è questa contraddizione che mette Hegel proprio una contraddizione tra la dictum il dire della dictum e il dire che è il dire filosofico il gesprecht di Heidegger alla fine assume un significato sì certo il gesprecht è sempre aperto alla possibilità del naufragio ovvio ma in sé quando non il gesprecht è un eraginismo può appartenersi invece non è così il gesprecht heideggeriano il gesprecht heideggeriano alla fine assume veramente una tonalità tragica è l'ultima è l'ultima forma dell'arte per Heidegger profeticamente qual è l'ultima? è il comico l'ironia no l'ironia è quella romantica che ancora mette in campo l'io e la potenza del dio ma alla fine la dimensione propria dell'arte sarà il comico dice tornerà a riscofane l'arte che mostra che cosa? il dissolversi di ogni etos il dissolversi di ogni il dissolversi del dialogo in fra intendersi quello sarà la dimensione propria dell'arte il comico ma è profetico questo perché io non esco perché è bene è veramente profetico cioè l'estetica è veramente profetica io direi di lasciarci qui e invece si conclude questa sera il nostro concluo di siamo felicissimi di avere tra noi ancora una volta Massimo Cacciari il nostro orpide da sempre quindi ci lega non solo l'intelligenza della filosofia ma anche contro il fondo affetto mi tolgo di mezzo subito e do la parola grazie il tema l'ho deciso con fungo di affrontare di particolare complessità anche terminologica sapete che Heidegger amava anche una certa aura nella presentazione dei suoi scritti io cercherò di evitare per quanto possibile la seduzione e la fascinazione appunto terminologica che invece ha come dire ha profondamente influenzato anche una certa vulgata heideggeriana di certe interpretazioni soprattutto certe traduzioni di Heidegger che insistono fino alla parodia su un tentativo di rendere i neologismi o le stranezze della lingua tedesca di Heidegger e tuttavia il tema è tale che occorrerà una certa attenzione per riuscire a seguire e partirò da Heidegger poi cercherò di usarlo anche per alcune considerazioni che fuoriescono dall'ambito specifico della sua interpretazione ma non c'è dubbio che in esso filosofia poesia svolge Heidegger soprattutto nel secondo cosiddetto Heidegger da 33 di poi insomma un ruolo fondamentale non c'è alcun dubbio che parlare in questo rapporto come vedremo è un po' parlare in generale della filosofia di Heidegger quindi a maggior ragione la difficoltà del tema proprio perché poi Heidegger ha quella fiducia tecnico-genitico politico eccetera eccetera ogni interpretazione sarà solo un tentativo di far luce a Erdogan mai una ecco una spiegazione esaustiva completa compiuta dictare da cui dictung compreso la famiglia linguistica in cui stiamo muovendo e che bisogna sempre avere nell'orecchio dictare è una forma del dire del dicere quale è un intensivo di dicere una forma intensiva di dicere in essa si mantiene inalterato il senso originario del manifestare della manifestazione ma si enfatizza che cosa nel dictare così come risuona nel senso latino cosa avviene rispetto a dicere nel dictare il senso del manifestarsi con la parola è uguale ma si enfatizza il manifestare qualcosa con forza ad altri come quando noi diciamo dettare io non detto mai a me stesso detto a te si manifesta questo elemento con forza un indirizzarsi ad altri io dico attenzione ad alta voce nel dictare io dico ad alta voce affinché altri ripetano seguendo questa è la forma del dictare io dico ad alta voce affinché altri mi seguono ripetendo ciò che io ho detto dictato viene da dictare chi è il dictato chi è il dictato che appunto i latini spiegavano come verbo a dictando che viene da dictare chi è il dictato è lui che dice 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 ad alta voce dice e il suo e ditto e ditto e ditto dice di nuovo pronumine sempre osservato spiegano così drammatici da Tio è colui all'essere visto atticare andarsene non essere più mostrabile non essere più visibile queste espressioni dedico attico eccetera che suonano anche in italiano rendono ancora più forte il significato di dicere un significato originario di dicere molto affine a degnire un mostrare sì con la parola ma un mostrare appunto che può sia solennemente consacrare come ritirarsi dalla manifestazione in parole come in verbi come dedicare atticare eccetera è evidente la sfera sacrale di questo dicere la sfera sacrale è la sfera del diritto è proprio questa la sfera in cui la forza della radice di Teic risuona con più intensità dov'è che vediamo con chiarezza questa questa dimensione pensate a Iutex il giudice colui che dice che mostra che dice che dimostra che fa valere il ploius in giudice questo dire il dire del giudice assume quasi qualcosa di inappellabile ma inappellabile perché si connette oltre a quello che noi chiameremo diritto positivo alla stessa dicke stessa radice decmi dicke greco cioè questa è la relazione essenziale che già ci appicina alla sfera del pensiero poi anche il diagriano dicke è la manifestazione cos'è dicke cosa significa dicke dicke è il manifestarsi ma mostrarsi manifestarsi di un ordine che informa di sé o dovrebbe informare di sé ogni disposizione giuridica ogni disposizione politica il nesso tra dicke come ordine diciamo cosmico e la legge nomos come risuoni in eratito in eratito in poli lungo tutta la nostra cultura la nostra tradizione il problema non diremmo il problema del rapporto tra diritto e giustizia continuamente ripetiamo questo problema ma ritorno incessantemente il problema del diritto e giustizia per noi e non c'è dubbio che tutta la tematica del diritto naturale dei diritti umani eccetera perché c'è su tutte forme secolarizzate del tema dell'articca e del rapporto tra un ordine di carattere cosmico e il diritto positivo che deve valere e obbedire nella polis nell'ordine politico giuridico propriamente inteso ecco ma nessun ordine abbiamo seguito fin qui il discorso nessun ordine nessun dispositivo politico giuridico potrà mai essere tale da esaurire in sé o da mostrare pienamente in sé da sé di che qui già subentra appunto un'idea di differenza e che va tenuta ben presente per tutto il discorso lo svilupperemo potremmo già dire proprio così ogni disposizione giuridico politica può solo compiere rappresentare una per me heideggeriano una erlotterum di di dike una illustrazione una interpretazione della dike ma mai esprimela pienamente mai essere una erclevung distinzione fondamentale di Heidegger no? no erlotterum no? sono quelle che Heidegger fa di Helderleu non erclevung non ci potrà mai essere un erclevung una piena illuminazione della dike di ciò che si mostra come ordine cosmico meta politico meta giuridico meta ma soltanto appunto ma soltanto una interpretazione un'illustrazione una approssimazione altro termine un annerum altro termine che ritorna spesso in un avvicinamento l'erlotterum è un avvicinamento alla alla a ciò che viene detto nella dike e vedremo nella dictum ciò che viene che la poesia dice in quanto dictum o di ciò che appunto giustizia dice in quanto dic ogni dispositivo dispositivo che tutti li salvi insomma nella sapienza della parola e della parola tedesca in particolare che lui ascolta come a volte come tutt'uno con la parola greca proprio per questo iniziamo con l'ascolto della parola della parola che qui informa tutto il discorso di Heidegger cioè la parola proesia in tedesco perché su questa Heidegger gioca 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 una roba serbica come sapete più intensamente cioè la parola dictum che qui noi traduciamo polisia e vedremo come questa traduzione sia del tutto impropria rispetto a ciò che Heidegger intende con questo termine che cosa ci dice la sapienza di questa parola dictum la radice è una radice ben nota comuna a tutti gli idiomi in europei Deik 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 in greco vuol dire io mostro io manifesto manifesto con l'indice con l'indice indicando manifesto indicando non è manifestare qualsiasi ma è manifestare indicando mostrando con l'indice ma la stessa radice Deik che in greco dà Deik Deik e cioè mostro manifesto indico in latino da Dice dire che in tedesco si deve pensare dire in latino è sì manifestare mostrare come il tecnico greco ma nominando non indicando ma nominando parlando è un questo significato di Dice risulta ancora più chiaro se noi pensiamo ad alcune espressioni che derivano da Dice per esempio dedico no? dedico rafforzativo di Dice mostro solennemente con sacro non dico soltanto ma dedico dico in un senso più forte solenne viceversa abdico no? che vuol dire rifiuto di riconoscere non vostro oppure mi sottraggo di riconoscere di riconoscere